Che ruolo ha la microfinanza per lo sviluppo delle realtà più disagiate e l'empowerment dei soggetti vulnerabili? Da questa domanda è nato l'incontro ospitato alla Farnesina il 19 ottobre tra istituzioni, esponenti del settore finanziario, investitori sociali, ONG e società civile. Un'occasione anche per condividere esperienze e buone pratiche già sviluppate nei sud del mondo, dove la microfinanza si è dimostrata tra gli strumenti di cooperazione capaci di promuovere nuove strade per lo sviluppo dei popoli. L'accesso al microcredito consente infatti di concretizzare il potenziale produttivo delle donne innescando meccanismi di crescita e sviluppo e intervenendo anche su fattori della sfera sociale e culturale come l'esclusione e la discriminazione contro le donne e le bambine. In Senegal l'Italia è addirittura capofila dell'Unione Europea e sostiene il programma nazionale selegalese sull'uguaglianza di genere. Un'ultima risorsa è fornita anche dal noto programma Prasepri, rivolto in particolare alle microimprese e al sostegno dei migranti di ritorno. Questi programmi sono estremamente costosi da gestire perché in realtà la componente finanziaria è un elemento ma poi c'è tutta un accompagnamento di assistenza tecnica finché la persona che riceve il credito sia in grado poi di sviluppare un'attività produttiva che ha un mercato. Il mondo dello sviluppo globale è cambiato e quindi c'è bisogno di aggiornare gli strumenti operativi anche per quello che riguarda la microfinanza alle esigenze dei tempi. L'intervento prioritario riguarda sia un'area geografica che è quella in particolare dell'area subsahariana. La sfida è riuscire a mettere insieme economie di scala che consentano di intervenire maggiormente sul microcredito e sulla microfinanza, unire questo con il fatto che la microfinanza che ha per oggetto tipicamente l'individuo o piccoli gruppi di individui poi abbia delle ricadute permanenti sulla collettività nei paesi in cui appunto si va a operare. Grazie.